Sì, guarda il canale del Drago Freebooter e capisci. Anir legale. Questo disclaimer, la gente è veramente... No, ma ragazzi, avete l'opportunità di entrare in una live che negli ultimi mesi è una delle più importanti perché è quella del gruppone originale. Quindi potete far parte di questa bella live. Dai, dai, sarebbe una figata. Facciamo eliminazione, Devo? Cioè, che uno ride è eliminato? No, facciamo una cosa, facciamo una cosa. Chi perde deve fare una penalità e Limonale Rubino. Ah, ci sto. No, io... Rubino, se ci sta, è bello furbacchione. No, vabbè, perché è un amicizia, è un amicizia. Un amicizia. Rubino ha guardato in alto a destra e ha detto ci sto. No, no, io guardo in alto a sinistra. Grazie. No, 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 volevo dire a destra, a destra. No, vabbè. No, a sinistra. No, 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 ho detto a destra. Ma state dicendo? No, niente, niente, vai. Vabbè, lui è per alba. No, però ci sta che se uno ride esce. E magari fa un... Di base. Cosa, Gaia? Magari fa un obbligo. No, no, secondo me ci sta che chi ride esce, poi ne rimangono tipo fino a rimanerne due. Come ci sta se uno ride esce? A me è facile, basta che entra cosa. Come si chiama il ballerino all'altra volta? Omar Falco. No, facciamo che chi ride non esce, si muta. Fino a quando non rimane solo uno smutato. Ok, li muto io allora. Va bene, va bene. Grazie, Drago Freebooter 2. Ti seguo. Bomba comunque, grazie del support.